Ridurrò al minimo il mio intervento anche perché delle cose di cui dovevo parlarvi abbiamo realizzato una brochure intesa con il CSI Piemonte che ha seguito questa ricerca sugli archivi che trovate nelle cartelline che sono state distribuite con il convegno. Così potremmo farci il coffee break che seguirà il mio intervento con un po' di tranquillità. Questa iniziativa è partita come idea due anni fa quando ho avuto la possibilità, grazie all'invito che ci è stato rivolto dal Presidente Policante con cui in questi tempi abbiamo instaurato una collaborazione che è andata ben oltre i rispettivi ruoli formali, abbiamo avuto la possibilità insieme al Dottor Conterno, responsabile della direzione comunicazione istituzionale della Giunta di partecipare all'assemblea della FIPEG alle OGR, mi ricordo in occasione dei festeggiamenti per il 150esimo dell'Unità d'Italia. In quella sede abbiamo raccolto così la sollecitazione che è pervenuta da numerosi editori di settimanali di giornali locali per far sì che si arrivasse a un processo sistematico di digitalizzazione degli archivi giornalistici delle testate, alcune delle quali sono ultracentenarie e rappresentano un patrimonio della cultura piemontese che assolutamente l'intenzione della Regione, giunta ai Consigli unitamente, di valorizzare. Si è rivolta quindi a 78 testate aderenti che hanno ricevuto un questionario e hanno dato una risposta, per ora hanno risposto a 34, quindi siamo circa la metà grossomodo delle testate interessate e ovviamente presentiamo i primi dati della ricerca in questa occasione, ma accogliamo anche l'occasione per sollecitare le testate che finora non hanno aderito in qualche modo aderire e darci la possibilità di completare questa rilevazione. Il patrimonio di testate censite in Piemonte è davvero significativo, il Piemonte è forse un unicum tra tutte le regioni italiane, come è già stato detto da molti interventi, rispetto alla differenziazione, all'articolazione delle testate presenti sul territorio e abbiamo qui una rappresentazione grafica delle testate che hanno una tiratura settimanale di circa 600.000 copie e, come è già stato detto, 2 milioni e mezzo di lettori a fronte di una popolazione di poco più di 4 milioni di abitanti. Queste sono invece le testate campione sul territorio piemontese, sono distribuite su tutte le province, tranne che Novara, e presentano una data di nascita che va dalla prima età dell'Ottocento, addirittura prima dell'unità, fino all'ultimo decennio. Stiamo parlando sempre del campione censito, la fogliazione aumenta, diciamo così, progressivamente, e in modo notevole, nell'ultimo, no, queste sono le, scusate, le testate, sì, la fogliazione è qui. Scusate un attimo. Questa è la crescita del numero di testate di campione nell'arco del tempo censito, come vedete 1861, poi 34 nel 2012. Questa è la fogliazione, si nota una crescita notevolissima, esponenziale, nell'ultimo periodo, nel terzo millennio. E, diciamo, rispetto al campione censito, abbiamo rilevato archivi per circa 3 milioni di pagine. Le pagine aumentano sia nell'arco del tempo, sia per la maggiore fogliazione dei giornali censiti, sia per la nascita di nuove testate. E, come si rileva già dalla precedente slide, dagli anni 90 in poi, la crescita è salita moltissimo. Questo censimento ci ha permesso di rilevare anche un'evoluzione dei formati, perché una delle richieste che venivano fatte nell'indagine era appunto il formato del giornale. Si può vedere che, rapidamente da questa slide, poi potrete vederla meglio in cartella, c'è stata un'evoluzione, nel senso che il formato lenzuolo, il tradizionale, quello che in gergo viene del lenzuolo, è praticamente scomparso nel tempo, a partire dall'inizio del Novecento. E si sono affermati dei formati più moderni, come il tabloid o analoghi e similari. E inoltre c'è stata una maggiore omologazione, perché mentre in passato c'era una situazione più variegata, con testate che utilizzavano formati molto diversi, adesso si va verso un'uniformità dei formati. Questa è l'ultima slide, che analizza un po' i supporti su cui i giornali sono conservati. Ovviamente tutti sono conservati su carta, l'abbiamo dato per scontato, e abbiamo registrato invece che ci sono delle testate che hanno già fatto una microfilmatura, dal periodo ad esempio dall'82 al 1950, una testata. Tre testate hanno il formato immagine JPEG, di cui due nel periodo 1882-1950, quindi un periodo molto significativo, e uno nel periodo 1895-1963. Mentre poi dal 1987 comincia ad affermarsi il PDF, che ormai è dominante, e oggi praticamente copre la totalità del campione. Colgo l'occasione per questa splendida slide, che è molto chiara e evidente, per ringraziare il CSI e il consorzio Topics, che hanno messo a disposizione le loro professionalità per realizzare queste, che non sono più delle slide semplici, ma delle vere e proprie infografiche, che rappresentano, ve le presentiamo oggi, una sorta di anteprima, rispetto a un lavoro più ampio che il Consiglio regionale ha lanciato, e che si chiama Piemonte Visual Contest, un premio dedicato a chi saprà rendere meglio, con un'infografica o una data visualization, l'attività della regione in questi 40 anni di vita, utilizzando gli open data, che sono resi disponibili già su molti siti del Consiglio e della Giunta. Diciamo che, come Consiglio, e concludo rapidissimamente, abbiamo cercato, essendo anche noi editori nel nostro piccolo di prodotti giornalistici, di seguire questa evoluzione dalla carta al web, che è il titolo di questo incontro. Abbiamo in particolare cercato, negli ultimi mesi, di dare un nuovo indirizzo, una nuova mission a una nostra testata storica, che è Notizie, che è stata presentata, il numero 3 è stato presentato proprio in questa occasione, è distribuito a tutti i presenti, è una testata storica che, diciamo, ha un certo prestigio e gioca un ruolo importante come magazine istituzionale nella comunicazione della regione, perché è realizzata congiuntamente sia dagli uffici stampa della Giunta che del Consiglio regionale. Abbiamo voluto, appunto, che Notizie vivesse anche un po' questa avventata di rinnovamento, interagendo con i nuovi media, con il web, con le tecnologie più avanzate, non solo mediante la sua pubblicazione sul sito, dove abbiamo, peraltro, tutto l'archivio dei 42 anni di Notizie, ma anche la possibilità di scaricare con una app e di leggerla su tablet e smartphone, perché, giustamente, i device mobili sono la tecnologia che si affermerà sempre di più, come già stato rilevato dai precedenti interventi. Ma da due numeri abbiamo anche cercato un altro strumento, diciamo così, di interazione, di interdipendenza, di connessione tra la vecchia carta e le nuove tecnologie, ed è quello della realtà aumentata. Siamo abbastanza orgogliosi di aver realizzato questa iniziativa, insieme ad esempio a un altro quotidiano che è importante in Piemonte, che è la stampa, e una tecnica che consente, mediante una semplice immagine, di accedere ad ulteriori contenuti disponibili in rete, in modo che il lettore più interessato ad approfondire possa accedere facilmente all'argomento scelto. Ad esempio, vi anticipo che fin da lunedì troverete sul nostro sito crpiemonte.it tutti i contenuti dell'evento, il dibattito, quanto ci siamo detti, le registrazioni, i video, semplicemente andando su notizie, che potete prendere o avete già preso, facendo una foto con l'app di AR Augmented Reality a pagina 43. Concludo davvero dicendo che il web offre l'opportunità di abbattere i limiti di spazio, il famoso spazio tiranno, che è stato giornalista, che è giornalista, sa cosa intendo, ma naturalmente il grande flusso informativo pone per i potenziali lettori il limite del tempo, che non è infinito. Di qui la necessità di attrarre ed emozionare, con una notizia che diventi una storia. E questo ruolo, emozionare, raccontare una storia, forse la carta sa farlo ancora meglio di qualunque altro mezzo, soprattutto se dietro c'è il lavoro vero di un giornalista. Grazie.